Perchè seguite me? Perchè seguite me? Perchè seguite me? Perchè seguite me? Oh, ferma! Qui è terra di Roma! Fateci passare! Sono? Chi siete? Bambari! Sono? Chi? Bambari! Bambari? Chi? Bambari! Bambari! Cosa siete? Una tribù di handicappati? Ma non è così capace! Ma scusate! Ma che dice questo? Ma che cazzo è stato a ciepia? Ma che tu? C'è questa gente strana qua fuori! Chi? Bambari! Bambari! Uno con... Com'è che te chiami? Attila! Chi? Chi? Attila! Attila! I don't feel it! Che è? Spelling! A come atrocità! Doppia T come terremota e tragedia! I come ira di Dio! L come lago di sangue! E A come... Adesso vengo lì e mi spacco le conna! Spacoli! Più lì! Allora! I think it's really fun! Come and ride! Grazie a tutti.